La formazione dura tutto l'arco della vita e la responsabilità di condurla ricade sul professionista stesso che decide in che direzione crescere. Il portofolio consente di pianificare l'apprendimento, predisporre un prodotto valutabile e fornire un'azione olistica del professionista e della sua crescita. Il portofolio delle competenze a cura dell'osservatorio formazione dell'AIP. Ve lo consiglio.